Un parterre da polvere da sparo, già dal titolo del libro al centro del dibattito. Siamo tutti puttane di Annalisa Chirico, edito da Marsilio, nell'appuntamento organizzato dal settimanale Panorama a Lecce. Ospiti sul palco delle officine Cantelmo, Alessandro Cecchi Paone, candidato all'European e alle liste di Forza Italia per il Sud con l'appoggio di nuovi PSI radicali, i sindaco Pd di Mari, Michele Emiliano e Giuseppe Cruciani, noto conduttore della trasmissione radiofonica La Zanzara, moderati da Terri Marrocco. Un libro che sta dividendo e facendo discutere, urtando la suscettibilità di molte penne del femminismo italiano, forse perché tocca un nervo scoperto, spiega l'autrice. Puttane naturalmente aveva inteso non soltanto in senso letterale, io penso davvero che la prostituzione libera e volontaria sia un'attività che dovrebbe essere anche in Italia regolata come succede in altri paesi, ma soprattutto aveva inteso in senso metaforico, le puttane e puttani d'Italia, ovvero tutte le persone che hanno voglia di riuscire nella vita, che sono pronte a sgomitare perché vogliono guadagnarsi un posto nel mondo e che quindi usano per riuscire qualunque dote che hanno ricevuto in sorte, non soltanto quelle intellettuali, anche quelle fisiche che io credo non siano più deprecabili delle altre. In Italia non è possibile fare nulla per quanto riguarda il progetto di felicità delle persone, l'agibilità delle libertà che sono uguali per tutti, di fronte alla legge, di fronte alla natura, per chi ci chiede di fronte a Dio. Per questo voglio andare in Europa come un marziano di questo sistema politico a dire per favore europei adottateci. Renzi costituisce comunque in questo momento la carta da giocare, non ce ne sono altre.